Allora l'idea lacaniana, ma non solo lacaniana, che tra coloro che si amino ci sia alla base una promessa forse non palesemente espressa, ovvero di completarsi, di darsi felicità e che quindi si finisce per dare ciò che non si ha, ahimè non mi convince. E' anche vero che vi sia l'anelito al completarsi e che questo comunque non può avere luogo, ma a mio modestissimo parere non è questo che, e cito, risplende la base delle relazioni d'amore. Alla base dell'amore c'è, a mio parere, la profondissima necessità di essere riconosciuto come individuo già completo, non parziale e bisogno di completamento, completo nella tua unicità. E in questo riconoscimento vi è un riconoscimento della propria individualità, del proprio essere su questo pianeta, nel quale è facile scivolare nella massa, nel numero, nella non identità. E questa disintegrazione dell'io e dell'identità si approssima alla psicosi, alla follia e in definitiva, siamo sempre lì, alla morte. L'amore è quindi il grande mezzo che placa l'angoscia di morte. Circa la ricerca della felicità posso tutt'al più intercettarla nelle prime fasi dell'innamoramento, ma la felicità è una condizione di alterazione di breve durata. Secondo me nessuno vive con l'idea delirante di poter essere quotidianamente felice con il partner, con la partner, per ciò che la felicità comunque significa. Secondo me una speranza ragionevole che si ha è di vivere diversi momenti di felicità e poi condurre una vita quotidiana gradevole. Ivi compresi giorni no, ma sono ancora più critico rispetto all'idea, devo dire, del tumi completi. No, a mio avviso il mito platonico delle due metà riportato nel simposio e che Lacan sembra volere in qualche modo recuperare, manca la radice profonda dell'amore, fermandosi ad un livello che c'è ma che non è quello più profondo e che invece ritrovo di più nelle relazioni patologiche e in quelle tossiche che parlano di un moto regressivo, infantile, di una diade che diventa monade, di una funzionalità perfetta e pacificante. Però no, l'amore è un processo evolutivo, non involutivo, come ho già detto in un mio precedente video. È quell'unica condizione per la quale un estraneo ci intercetta immersi nell'informe folla umana, punta il dito verso di noi, ci sceglie, ti vede, quindi ci solleva da un'esistenza anonima e potenzialmente insensata e negativa e riconosce in noi un valore unico. Tutti siamo vivi ma questo non ci basta in realtà. Dobbiamo sapere perché siamo vivi e chi siamo. Ed ecco che a un certo punto qualcuno che non sarebbe tenuto a farlo, per legame familiare e lo fa quindi liberamente e gratuitamente, ci dice tu esisti, tu sei importante, non sei più anonimo, io ti vedo in mezzo agli altri, io dico il tuo nome. E così il tuo ruolo in questa esistenza diventa più chiaro. Lo spettro dell'inutilità che riecheggia con il vuoto, con l'annichilimento dell'idea della morte, svanisce ma rimergerà facilmente quando verremo lasciati. E da lì anche quella depressione, questo lutto che si ha quando finisce l'amore. L'amore comunque perciò riconosce il nostro io, la nostra identità, dà un senso ed è proprio perché i due io in interazione sono distinti che questo senso ha senso. Se l'importanza derivasse da un processo di fusionalità, saremmo di fronte a un sentimento regressivo, arcaico, narcisistico nella sua circolarità e anche molto connotato, più di quanto si osserva, dalla ricerca di un doppio complementare. Osservate peraltro lo sforzo che l'individuo che non ha un amore deve compiere per sottolineare autonomamente il proprio senso in questa vita e la propria identità tramite il lavoro, tramite gli hobby e altre cose, cioè che funzionano come ersatz, cioè sostituti dell'amore e delle attribuzioni che l'amore automaticamente pone. Inoltre, l'amore è un tema archetipico troppo grande per avere come contraltare e funzione la promessa di felicità, che in fondo è una sciocchezza. No, l'opposto del grande archetipo dell'amore, questo raggio di luce che ti punta benevolmente nella nebbia umana come fosse l'occhio di Sauron a buono, deve per forza essere un altro immane archetipo, così come a Dio si oppone Satana. E l'unico altro grande archetipo uguale o contrario a questa luce, al chi sei su questa terra, è non essere, è la morte, o almeno io. La vedo così. Alla prossima.